fratelli e sorelle bianconeri oggi voglio parlarvi di due persone persone insomma molto più simili agli animali ma neanche perché gli animali ho più rispetto per gli animali guardate che per un per un essere così per due esseri così viscidi per due per due escrementi come quelli di cui vi sto per parlare ebbene sì leonardo martinelli pasquale bruno uno è un mezzo pseudo avvocato delle cause perse opinionista top calcio l'altro lo conoscerete un ex calciatore fallito dai piedi quadrati che in vita sua ha saputo solamente rompere le caviglie di 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 persone che lo hanno umiliato tecnicamente come marco van basten come tanti altri lui sapeva solo randellare perché era uno dei giocatori più scarsi mai vissuti nel pianeta calcio ma non è questo il problema il problema è che nonostante nonostante l'evidenza delle moviole di tutte le moviole all'unisono rai mediaset sky tutte nonostante questo leonardo martinelli pasquale bruno hanno continuato ad asserire che la juve ha rubato la partita con la punizione che non c'era il rigore c'è roba ragazzi incredibile roba veramente roba che non basterebbe il fiume po pieno di pieno di saliva rovesciato in faccia a queste due persone non basterebbe la saliva di tutto il mondo per fare uno sputo degno uno sputo in faccia degno di chiamarsi sputo due monnezze monnezze di persona moviole tutte tutte anche di fronte all'evidenza e continuava la juve ha esercitato la pressione a fine primo tempo ha condizionato l'arbitro che infatti eravamo sicuri ha attaroccato la partita facevano vedere ma guardate che quadrato arriva prima sul pallone viene buttato a terra guardate che de paul fa una sciocchezza in mane facendo così in barriera è una no no io sì ma che schifo è una vergogna sono vomitevoli e io pago sky per vedere questo vomito che rubano che c'è continuando così di fronte all'evidenza in un anno tralasciando tralasciando che questa cosa avviene in un anno dove abbiamo subito una quattordicina quindicina di furti arbitrali allucinanti ci siamo e ci siamo stati zitti insomma ma così è troppo veramente è troppo è troppo già invitare queste persone sapendo dove andranno a parare da parte di chiambretti o da parte di di quell'altra merda di ravezzani invitare queste persone vuol dire creare ad hoc una trasmissione per buttare merda sulla juve perché l'audience è sempre lì ecco perché vi dicevo lasciamo sta serie a perché gli crolla tutto gli crolla il castello di carta se non possono fare queste merda di trasmissioni che poi ragazzi ci fosse stato uno a parte gianni balsarini o a parte a parte una sette gold mi pare santini ma proprio per qualche secondo però ci fosse stato qualcuno oltre loro che avesse spiegato il motivo che era palese a tutti per quella protesta dei giocatori e di paradici che non sono impazziti assolutamente non sono impazziti perché non impazziscono tutti per un arbitro che fischia il 45esimo come succede il 95 per cento dei casi in serie a non sono impazziti ve lo siete spiegato ve lo siete spiegato bastava vedere il tabellone è semplice o fate finta di non vederlo perché lo sapete benissimo perché hanno protestato tutti che il tabellone era rotto il tabellone che guardano i giocatori il tabellone dello stadio di udine che segnava 44 minuti era rotto i giocatori i paradici non guardano l'orologio all'arbitro non guardano non guardano il telefonino per vedere sky come il cronometro di sky no no guardano ovviamente in alto il tabellone gigante che segnava 44 minuti e ci fosse stato uno che l'avesse fatto notare sta cosa sono balsarini e santini una cosa elementare quando vedi bonucci che gli fa 4 4 così all'arbitro che perché 44esimo arriva ronaldo mai visto in vita mia 44esimo gli fa ronaldo ronaldo tutti impazziti non vi viene il dubbio andatevi informare fate il vostro dovere di giornalista il vostro dovere di cronaca che giornalisti di merda siete ci arrivo io che non sono nessuno ci arrivo c'ero già arrivato al momento e non ci arrivate voi non ci volete arrivare non ci volete arrivare perché non lo dite che paradici è sceso da lì perché sono le scale più semplici per arrivare gli spogliatoi perché lo stadio di udine è una strada che porta gli spogliatoi che deve fare il giro dietro dello stadio infatti pure marino c'è dietro paradici è sceso anche marino da quelle scale è più comodo fare quelle scale dalla tribuna che non tutto il giro dello stadio chiaro che una volta che lì paradici che deve dire perché è fiscato al 44esimo perché vede il tabellone pure lui abbiamo condizionato la partita dove non ci hanno dato un fallo al limite su quadrato un fallo al limite su alexandro più grosso di quello di quadrato ma di che stiamo parlando perciò Martinelli Bruno mondezza schifosa però non è che gli altri giornalisti che omettono una cosa così palese per non fomentare odio per non fomentare i sospetti dubbi ci fosse un giornale un giornalista che parla di questo tabellone dello stadio rotto ma come fa a non venirti il dubbio che tutti i giocatori si impazziscono per un abito che fiscano al 45esimo sono impazziti tutti perché segnava 44esimo un tabellone gigante con un 4400 stampato ovvio che tutti dicono perché hai fiscato un minuto prima hai sbagliato non possono guardare l'orologio dell'arbito ovviamente io non so se veramente i giornalisti di oggi sono sono merda se sono imbecilli se sono faziosi se sono ritardati con tutto il rispetto ritardati ragazzi un deficit intellettivo ce l'hanno assurdo assurdo entriamo in champions ragazzi vinciamo sta cazzo di partita entriamo in champions così gli cagliamo in faccia a Martinelli che è un milanista del cazzo e a Pasquale Bruno altro grande anti juventino entriamo in champions cagliamogli in faccia a tutte e due e prendiamoci pure Donnarumma parca puttana fino alla fine